buonasera amici del parachecco siamo qui con il presidente capitano dell'entella grande vittoria fabio treporello sofferta contro il palermo che match hai visto beh partita molto ma molto sofferta però penso vittoria meritata bravi ragazzi del palermo però abbiamo vinto noi basta caro fabio oggi abbiamo visto il sinistro di dio simone lupino in grande spolvero simone lupino ci ha dato un attimo a mano nonostante gli anni e i chili che avanzano ancora può dire il suo il figlio di breccolotto sembra prendere ormai le orme del padre grandi parate salvataggio alla fine miracolo per l'età che c'ha insomma 15 anni mi sembra ha fatto ottime parate è un bel avvenire due parole su lorenzo meduri sempre più invasato c'è anche anche andrei il nostro andrei ormai è finito che prospettive all'interno per il futuro del campionato non le non rilascio dichiarazioni per il momento ringraziamo fabio treporello per l'intervista ciao scusa fabio treporello ti saluta ciro immobile ciao